Sanremo 2022 Subirichina prosegue il nostro racconto da Sanremo, ci colleghiamo con Matteo Romano, ciao Matteo, benvenuto Ciao, grazie, grazie mille Benvenuto Subirichina, tra i giovanissimi di questo festival, ricordiamo tu hai vinto nella sezione giovani e così ora sei in gara tra i big con il tuo brano virale ma raccontaci un po', quali sono quegli artisti che ti hanno fatto avvicinare alla musica e al canto? Beh, assolutamente i cantautori colossi del cantautorato italiano, soprattutto influenzato da mio papà che ne è sempre stato appassionato Parlo di Battiato, Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, tutte queste personalità molto forti che mi hanno avvicinato al mondo della musica e soprattutto alla scrittura Poi in tempi più moderni anche artisti come per esempio da parte di mia mamma anche gruppi come gli Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers quindi sono diciamo un bel mix Nomi molto interessanti, un bel mix Cosa ci racconta Virale di Matteo Romano? Parlaci un po' della tua canzone Sì, allora Virale parla di una diffusione velocissima, no? Come nei social succede che secondo un algoritmo non si sa per quali logiche bene un qualcosa diventi virale ed entri un po' nelle teste di ogni persona come un brano che non riesce più a uscire Allo stesso modo io parlo di un sentimento, di una sensazione più che altro che è così forte, così travolgente che poi è veramente complicato da lasciare andare E è un po' la... io la definisco la chimica, no? All'interno di una relazione, il fattore virale Nel momento in cui c'è questo fattore, allora sì che ne vale la pena di vivere una relazione al meglio nonostante gli alti e i bassi che ci possano essere Ed è un po' come me lo sto vivendo io a 19 anni e come spero e credo poi in realtà se lo vivano anche ad altre età Mamma mia, sei giovanissimo davvero Matteo Chiudiamo anche con te con una domanda che stiamo facendo a tutti, è molto difficile lo so ma ti chiedo qual è il tuo brano Sanremese preferito? Di sempre? Di sempre Ok, a me viene da dire io che non vivo di Pino Donaggio perché è veramente magnifica e proprio un pezzone secondo me Parla di... si addice anche la tua eleganza Grazie Complimenti davvero Matteo Romano è stato un piacere averti qui su Birichina, torna presto a trovarci Grazie a me Assolutamente, ciao Matteo Romano In diretta dallo studio di Sanremo, gli artisti e gli ospiti del Festival della Cantore Italiana In collaborazione con Feb al Casa Triveneto Scopri di più su febbalcasatriveneto.it Natur Veneta presenta l'unica e inimitabile patata veneta Cercala nei migliori supermercati